buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo spazio dove quest'oggi collegandomi un po ai delicati ultimi due video beh il primo non era particolarmente delicato ma c'era zaia vescovi forze dell'ordine e alte cariche eccetera che bevevano pasteggiavano sereni senza rispettare le misure di sicurezza poi abbiamo fatto un discorso sul rispetto minimo necessario delle misure di sicurezza delle misure sanitarie per questo coronavirus che molti di voi ecco ad esempio citiamo solo un'espressione questo virus come minimo non esiste più o se no è una mezza sega appunto allora le posizioni sono molto molto critiche sul sul virus ma soprattutto sulla situazione in generale che come abbiamo detto in moltissimi video precedenti sembra divenire sempre più una questa pandemia dichiarata una scusa per applicare tutto un cambiamento sociale proprio un esperimento di ingegneria sociale su vastissima scala allora il primo video abbiamo visto come una certa una certo un certo ceto sociale una certa casta sociale si permetta di fregarsi in altamente delle norme salvo poi aver detto il giorno prima che chi non rispetta le norme può essere arrestato dovrebbe essere arrestato o addirittura costretto alla alle cure obbligatorie cioè un tso nel video dopo vi ho spiegato la mia posizione del perché mantenere le norme rispettare perlomeno per il momento le norme di sicurezza vi prego è importantissimo capire il senso di quel mio discorso perché vedo che a molti non passa e secondo me in questo modo invalidiamo totalmente il grande strumento che abbiamo per risolvere questa situazione non è uno strumento è una dote è una dote evidentemente molti non hanno guardato tutto il mio lavoro precedente anche se ho detto spesse volte che non si può guardare un mio video e fare dei commenti come se fosse l'unica cosa che ho detto perché altrimenti dovrei fare in ogni video 65 mila ore di video quindi secondo me se una persona guarda il filone del ragionamento il suggerimento l'impostazione all'osservazione delle cose alla vita alla risoluzione dei problemi che dovrebbe emergere attraverso tutti i video riesce anche a leggere un po tra le righe riesce a vedere quegli spazi vuoti del lavoro che cerco di fare mi dispiace sicuramente vedere che non abbiamo questo canale non ha 60 milioni di iscritti perché secondo me non tanto per un fatto di immagine che anzi mi pesa e non avrei neanche tanta voglia di stare qui e neanche di soldi che vi dico avessi il giusto per vivere serenamente sarei anche contento e il necessario mi basta ma è un fatto che se passa un messaggio che porta a unire le persone nella nella sensibilità l'empatia e la riflessione guardate che tutto questo disastro si risolverebbe in cinque minuti ma soprattutto non saremmo arrivati a questo disastro che è proprio il prodotto della frammentazione come abbiamo detto mille volte l'opposizione e il divide timpera attraverso cui ci hanno addestrati e porca miseria si vede esattamente anche nel mio scorso video nonostante stia tentando in ogni modo di passarvi un'indicazione perlomeno dopo è la mia arroganza il pensiero di dire secondo me su questa cosa ho ragione può funzionare beh ovvio tutti noi partiamo da un punto soggettivo se passa viene condiviso e sentito ok se non passa resterà nella mia mente però qual è il punto noi abbiamo una potentissima dote capacità che è molto assopita è stata anzi volutamente spenta soprattutto vi ho detto non dobbiamo ragionare sulle scuole le scuole non lavorano sullo sviluppo dell'empatia l'ascolto e il pensiero critico ma soprattutto credo l'empatia perché nel momento in cui tu percepisci lo stato emotivo dell'altro ti avvicini all'altro e quando parli parli cercando di trovare una sintonia adesso vi faccio un ragionamento su questa maledetta condizione dove ripeto stanno applicando tutte le strategie possibili di una guerra psicologica ve l'ho detto nello scorso video se non riusciamo a comprendere alcuni passaggini di un video io non è che mi posso sbilanciare con affermazioni estreme perché proprio andrei ad invalidare quello che sento e quella che è anche non una strategia astuta di manipolazione che è quello che viene usato da grandi interessi internazionali ma quella che è una risposta umana affettiva che poi porta dei grandi risultati non per strategia ma per moderazione e sensibilità io non so se qualcuno è arrivato fino a questo punto del video però perché non sto gridando io vedo degli urlatori in giro soprattutto poi mi fanno morire quelli che non sono in italia sono italiani all'estero e fanno dei video dove danno un po in generale al popolo italiano gli tacciano gli additano come cretini capre sciocchi voi finirete male ecco io però sono qui io vivo qui lavoro qui la mia economia è questa la mia società è questa amici parenti famiglia tutto qui quindi spero anche di avere una maggiore consapevolezza della situazione emotiva che vivemo vivono molte persone in questo paese e anche economica già che come vi ho detto in passato al oltre a lavorare proprio nelle relazioni d'aiuto quindi sento come stanno le persone cosa mi raccontano per riuscire ad arrivare al fine mese lavoro anche nel mondo degli immobili quindi sento impresari sento piccoli artigiani insomma ho un po uno spettro una forbice di analisi almeno del tessuto sociale qui a vicenza provincia padova verona queste zone qua che non non erano perlomeno le più povere d'italia quindi quando sento gli urlatori dall'estero offendere dire a tutti che non capiscono niente loro hanno la soluzione e sono soluzioni sempre estremiste in un certo modo magari critiche al massimo ma quando tu critichi e demolisci tutto sei divenuto un estremista perché stai seguitemi vi prego da un punto di vista ideologico cioè io ho la verità e anche su questo abbiamo fatto lunghi video sul fatto che non è avere la verità che aiuta a trovare verità ma è l'accompagnamento emotivo al dialogo e al discorso quando il dialogo e i concetti si staccano dal cuore dalle emozioni noi produciamo distruzione dominio controllo quindi questi piccoli pseudo giornalisti youtuber che sono indemoniati urlano gridano bestemmiano io credo che potenzialmente sarebbero forse peggio di coloro che oggi governano in maniera esplicita o implicita occulta quindi state un po' attenti a seguire sempre gli urlatori perché un tempo gli urlatori erano all'opposizione poi salgano al governo ricordo il comico genovese prima sembrava la soluzione la svolta poi è divenuto la manifestazione più ambigua inquietante di governo allora noi abbiamo una parte del paese io non lo so se lo volete capire che ha avuto comunque persone intubate questo virus secondo voi si è attenuato è leggero è fluidificato è una fuffa hanno comunque avuto parenti morti in quel periodo lì sono stati tanti tantissimi morti qualcuno dirà sono morti di influenza gli hanno intubati ma dite quello che volete ma capite che state usando solo la testa passate al cuore ci sono molte persone che in quella fase lì non hanno nemmeno visto i propri cari sepolti seppelliti tumulati persone che sono state terrorizzate da questo discorso del virus e che fanno una fatica estrema a poter pensare l'opposto cioè dire è tutta una manipolazione quindi devi pensare che hai visto sparire i tuoi genitori forse per errori imposti dall'oms dalle grandi intuizioni della cina persone che potevano essere guarite in un altro modo sono state è stata agevolata la loro morte capite allora se noi non comprendiamo e poi ci sono tutta una serie di persone che sono come ho già detto nel video precedente facilmente impressionabili non tengono la distanza quella distanza per sentire osservare di cui abbiamo parlato in circa 140 video ok però non la tenete nemmeno voi se esplodete gridando è tutto sbagliato è tutto un inganno perché nel momento in cui noi continuiamo a mantenere una forte opposizione interna che si genera da che cosa dal fatto che le persone che hanno sofferto hanno un'idea diversa non sentono nessuno spazio di accoglienza di morbidezza di ascolto dall'altra parte allora le due parti quando si avvicinano per affetto se io empaticamente inizio a immaginare tutte quelle persone che sono spaventate terrorizzate oggi sono uscito qua nella mia vicenza e c'erano tantissime persone in centro di fronte ai locali bar che portavano la mascherina anche fuori nonostante l'ordinanza regionale non preveda più la mascherina all'esterno quelle persone voi capite che non possono essere liberate con un'opposizione netta schiacciante seconda cosa quando vi ho detto dopo aver pesantemente credo analizzato e criticato o zaia compagnia bella il presidente della puglia vespa che sosteneva il tso per chi non rispetta le distanze le norme e poi era lì a bere il suo vino senza distanze norme dopo averli pesantemente criticati il fatto di aver detto io sempre ho rispettato le regole che voi avete imposto lo capite che anche dialetticamente emotivamente ti mette in una posizione di forza di non dire cioè nel momento in cui tu rovesci completamente il banco e dici è tutto non c'è più nessuna regola nessun senso e iniziamo a gridarci cose fuori dal dialogo ragionevole e pacato secondo voi io non so come spiegarvelo perché è inquietante non vedere questa cosa chi è che ha il coltello dalla parte del manico? chi è che ha le forze dell'ordine e della polizia dalla parte del manico? voi? voi fate saltare il banco quindi aprite la possibilità appunto dello scontro e voi chi avete in mano? cosa gli lanciamo? le bottigliette di amuchina? se noi teniamo un pacato ragionamento mannetto chiaro sui dati sulle informazioni che ci danno importanti medici su quel che è stato osservato e lasciamo un certo tempo di tranquillità anche alle persone che sono state scioccate e spaventate per poter sedimentare, per potergli parlare per poterle aiutare ad avvicinarsi ad una posizione dal mio punto di vista come vi ho sottolineato più volte molto più reale e concreta e cioè che questo virus è stato mostruosamente esagerato volutamente esagerato per costruire una condizione di estremo controllo e stravolgimento delle logiche sociali ed economiche allora abbiamo qualche speranza perché tra un po' tenteranno in ogni modo di passare alla fase 2 ma quella vera fase 2 non l'1-2 lockdown, semi-libertà-libertà la vera fase 2, lo sapete, molti di voi lo sanno è la vaccinazione di massa e ci sono già dei criminali in tv che parlano della vaccinazione obbligatoria di massa sia per il vaccino anti-influenzale e sia per l'ipotetico vaccino per questo virus attenuato, sbiadito gonfiato oltre ogni modo quella fase 2 laddove io adesso sono molto morbido e dico avviciniamo di più le persone rispettiamo per un certo tempo le norme che ci sono state imposte con grande moderazione con elasticità però è funzionale è strategico ma non in un senso diabolico di strategia voglio gabbare gli altri ma è emotivamente intuitivo e strategico per poter aggregare le persone fatto questo la fase 2 dove vogliono imporre la vaccinazione e se non siamo la maggioranza netta a dire no si creeranno dei grandissimi problemi e io su queste cose posso dare un po' di corda strategicamente avete mai letto un minimo libro di strategia di combattimento? a volte si arretra per far avanzare il nemico e poi si avanza quando il nemico si è scaricato perché voi più state compatti e tranquilli mantenendo voi il rigore vedete che loro non mantengono il rigore si espongono dicono cose sempre più assurde dove il virus è contenuto non abbiamo dati loro devono iniziare a parlare di un'esplosione del virus ancora più virulento ve l'ho mostrato nei video passati l'unione sovietica ha distrutto il terzo Reich perché è arretrata, arretrata e si è fatta distruggere una gran parte del territorio ma poi quando i russi abituati al loro territorio se ne stavano sereni a meno 20 i tedeschi morivano lungo la strada e le hanno attaccati nel momento in cui erano completamente scarichi di risorse ed erano dentro territori ostili che non sapevano gestire cioè è proprio minima base storica io vi ho già detto che questa è una lotta psicologica loro applicano tutte le strategie di manipolazione del discorso dei dati PNL e quant'altro voi se iniziaste a connettervi con l'emotività profonda applichereste le profonde potentissime strategie dell'empatia e dell'affetto che ha delle logiche incredibili di pazienza e di potenza allora ve lo dico anche proprio per il counseling quando faccio incontri con le persone e mi portano delle paure ad esempio ho paura che mia moglie mi tradisca la mia compagna secondo me se io secondo me se io capisco che questa persona è molto gelosa per paure sue secondo voi per riuscire ad aiutarla e sbloccarla gli dico tu vivi di paure tue sei pieno di paranoia non capisci niente svegliati la realtà è un'altra ma però applauso generale mi spacca la testa se ne va non mi paga nessuno e gli ho fatto del male bisogna aiutare a vedere l'angolo cieco l'angolo buio affrontare la propria paura vedere la manipolazione che in molti casi noi causiamo al nostro spazio interiore autonomamente quindi queste minime se le avessimo sapute prima queste cose comunque ne parlavo dal 2005 e non è che è arrivato il guru le ho apprese studiando guardando me stesso da un'infinità di persone che parlavano da una vita ma tante persone erano troppo prese nella loro attività quotidiana minima adesso che ci hanno cotto ha fatto la rana bollita vogliamo tutto subito la rivolta la stravolgere eccetera ma noi stiamo parlando con persone estremamente sofisticate che da tutta la vita studiano come mettervelo il cappello in testa capite? allora riguardate i video scorsi se capite un po' i miei discorsi a volte io sto molto moderato perché devo lanciare dei ponti anche se magari la mia visione su questo Gino G Gino 5 G Gino il virus del nostro come si chiama Di Maio tutte queste cose qua sentite di fondo quanto quanto non le percepisca come realtà tragiche della nostra società pericolo ma siano ben altri i problemi lo sfondo che c'è dietro quindi anche chi mi ha detto eh ma tu adesso hai più paura che ti chiudano il canale che bannino dei video allora cerchi di ammorbidirti ma chi se ne fe io ho paura per la condizione di frattura sociale che c'è perché se uno va a vedere dei video passati dove ho parlato del 5 G dove ho parlato di altre cose del 5 G G cioè ne hanno di motivi per chiudere quei temi se volessero infiniti quindi adesso perché mi dovrei mettere ad ammorbidirmi perché chiudono il canale ma chi se ne frega oltretutto non penso di cambiare il mondo però una piccola mano soprattutto su questo punto cioè avvicinarci è fondamentale io devo parlare anche spero a quella parte che non è così vicina a me che non è così vicina a quel che sento e credo che stia accadendo e non è con le offese le grida che vedo che poi scatenano tutta una serie di dinamiche di inquietudine ho visto un video passato dove qualcuno ha detto i medici sono dei criminali un medico probabilmente che in tutta la vita ha cercato di aiutare le persone sotto impazzito pieno di rabbia ed è corretto cioè non si trattano così gli argomenti signori miei se no si va in un bel paesino all'estero col culo al sole si dice che gli italiani sono tutti stronzi incapaci pecore benissimo così abbiamo l'aggravio della condizione grave che c'è allora quando arriverà questo tsunami del vaccino obbligatorio noi saremo completamente frammentati e ci scanneremo fra di noi e su quel vaccino io non transigo sul mettere la mascherina per un po' di tempo come hanno ordinato per lasciare avanzare il terzo Reich prepararmi avvicinare i nostri fratelli ok non rischia nessuno la vita su questa cosa l'esperimento sociale di ingegneria sociale e proprio biologico medico clinico che stanno facendo sugli italiani lì ve lo dico già cioè a me lo fanno da morto il vaccino perché lì possiamo fare tutto un video sulla follia di curare un virus che oggi ha tutta un'inquadratura ben diversa non c'è nessuna condizione pandemica cura un virus che non fa praticamente più morti con un vaccino studiato in 4-5 secondi con tutti i dati che abbiamo delle potenziali manipolazioni e gli interessi che hanno di questo vaccino ecco quindi capite a volte su delle cose bisogna mediare avvicinare essere più morbidi per poi essere durissimi su alcuni punti oh io spero che ci siamo capiti poi fate quello che volete ci vediamo al prossimo video grazie